Ciao da Absim, tema importante rispetto al quale non ho intenzione minimamente di nascondermi, quello della modifica delle regole del fair play finanziario e della valutazione dei bilanci da parte della UEFA. Un tema che ovviamente riguarda strettamente la Juventus perché sembrerebbe, questo è quello che vogliono far credere alcuni, ma vediamo se è vero e proviamo a fare alcuni ragionamenti, che se questa normativa fosse stata applicata prima del processo Plus Valense 2 alla Juventus, quindi del processo che ha portato alla fine ai 10 punti di penalizzazione, la Juventus ne sarebbe uscita inevitabilmente innocente. E quindi secondo quello che fa trapelare qualcuno, secondo l'interpretazione di qualcuno, in realtà la Juventus era innocente, è stata punita senza motivo perché aveva operato correttamente nella valutazione contabile delle operazioni. Stiamo parlando delle Plus Valense a specchio. Ecco, intanto, quindi di quell'operazione di scambio sostanzialmente, ecco quindi intanto sembrerebbe, sembrerebbe quasi, quasi che chi ha per mesi blaterato che la Juventus era stata punita per delle Plus Valense innocenti, abbia capito che non è così. Sì, visto che sta scritto nella sentenza del 20 gennaio, quindi hanno avuto di tempo per leggerla, era un po' lunga, ma se il tempo è passato dovrebbero essere riusciti ad arrivare alla fine della lettura, magari anche di una seconda e di una terza per capirla meglio, anche se quel 20 gennaio, frettolosamente, in meno di un'ora, a volte in meno di mezz'ora, già fioccavano i tweet che definivano la sentenza ingiusta e non c'erano ancora le motivazioni. Anzi, mi correggo, le motivazioni sono uscite il 30 gennaio, quindi hanno avuto dieci giorni in meno, saranno stati quei dieci giorni in meno di tempo ad impedire a certe persone di leggere bene le motivazioni per capirle? Chi lo sa, può darsi, può darsi effettivamente, dieci giorni fanno tutta la differenza nell'arco invece di sei mesi, ma quindi che cosa c'era scritto? C'era scritto che la Juventus non è stata condannata, non condannava quella sentenza, la Juventus per singole operazioni di plusvalenza, anzi, metteva proprio da parte ogni ragionamento sulla plusvalenza iscritta o iscrivibile a bilancio. Parlava di un sistema che era finalizzato a definire i valori di scambio, ma comunque i valori di compravendita dei cartellini dei calciatori, delle prestazioni dei calciatori, non attraverso una valutazione che era sportiva, ma attraverso una valutazione che era meramente bilancistica e meramente contabile. Mi servono per dire dieci milioni di plusvalenza, come posso fare dieci milioni di plusvalenza? Facciamo che io riconosco a te questo valore per questo calciatore, così tu riconosci a me questo valore per questo calciatore e io posso mettere a bilancio dieci milioni. Ma nessuna delle due parti era convinta di quella valutazione dal punto di vista strettamente sportivo e non è stato dimostrato secondo i giudici da parte della Juventus che un iter sportivo da parte della Juventus fosse stato posto in essere. Io riprendo questi passaggi perché è fondamentale, altrimenti uno dice ma di che stai parlando? Me ne sono dimenticato, sto al mare sotto l'ombrellone, sto aspettando gli acquisti di calciomercato o magari allegri out e quindi che cosa vuoi da me? Allora sintetizzando e rinfrescando la memoria questo è sostanzialmente il discorso, tanto più che i giudici hanno anche detto l'altro club, la controparte, interessa a margine relativamente a quelle che sono le risultanze probatorie per questi altri club, se ce ne sono. E comunque potrebbe ancora esserci, mi pare, di capire un processo nei confronti delle altre parti, ecco. Ma anche fosse che non hanno fatto nulla di irregolare, è irrilevante rispetto alle irregolarità contestabili alla Juve. Perché nel caso delle plusvalenze fittizie a specchio non è necessario che entrambi i club mettano plusvalenza a bilancio. Quello che conta è il sistema, senza contare che la Juve è l'unica società ad aver fatto queste operazioni con più società, le quali a loro volta al massimo le avevano fatte due con la Juve e neanche tra di loro. E quindi è chiaro che c'è una differenza. Invece stiamo stati mesi a sentire che i giudici sono tifosi del Napoli, sono anti-juventini, sono tifosi dell'Inter. Oppure la Juventus è stata bistrattata, è stata perseguitata, c'è stato un accanimento nei confronti della Juventus. Perché in realtà il Napoli ha fatto le plusvalenze fittizie con Osimen e quindi hanno trovato un caso del Napoli, uno che non fa sistema e che potrebbe anche essere stato irregolare, ma questo che vuol dire? Siccome l'hanno fatto gli altri allora non l'ho fatto io o se l'ho fatto pure io devono essere puniti pure gli altri. Insomma, qualunquismo, benaltrismo e impunità. Cosa che ho detto per mesi e per mesi e anche lì prendendomi non solo l'etichetta di Juventino deviato ma di interista, anti-juventino e quindi tutta una serie anche di tossicità e di aggressività che ho rispedito al mittente fregandomene altamente. Ma sorvolando su questo, quindi questo è il tema fondamentale, il principio è anche quello dell'applicazione appunto dei principi contabili internazionali, internazionali, IAS, vediamo anche quello che riporta e leggiamo adesso Calcio e Finanza proprio per essere più precisi e quindi vediamo, come dicevo, se la nuova normativa UEFA cambia in qualche modo il quadro, se lo cambia in che direzione, ma comunque che cosa possiamo dire nei confronti, in termini di ipocrisia e di contraddizione, nei confronti di quelli che per mesi hanno portato la bandiera della Juventus pura, della Juventus impunita, e della Juventus innocente contro i giudici e contro il sistema che sarebbe, anche se non lo dicono, anche se non lo dicono però lo sottintendono, corrotto perché c'è la FIGICI, c'è Gravina, c'è Ceferini, c'è la UEFA e tutti vogliono il male della Juve. Quindi leggo l'articolo di Calcio e Finanza di ieri giovedì 29 giugno. UEFA e Financial Fair Play, Fair Play Finanziario, così cambia la norma sulle plusvalenze. Ieri la Federcalcio, quindi il 28, la Federcalcio Continentale, quindi la UEFA, ha ufficializzato la nuova norma in chiave Fair Play Finanziario, FPF in italiano o FFP, Financial Fair Play in inglese, sulle plusvalenze. Ecco come si dovranno muovere i club secondo il regolamento per quanto riguarda le cessioni, perché stiamo parlando di cessioni. Poi che dall'altra parte fai anche un acquisto, è rilevante per il club che vende. Articolo di Matteo Spaziante. Allora, ovviamente non lo leggo proprio parola per parola, per ovvi motivi vi lascio il link in descrizione, perché non voglio ovviamente togliere il merito, cioè chiaramente a mia proprio altrimenti di contenuti altrui. Lo so che qui anche in ambito Juve è pieno di content creators che fanno freebooting impunemente da anni, ma vabbè, quello è un altro discorso. E allora sostanzialmente dice che la UEFA ha ufficializzato quindi questa nuova norma. Si va quindi a modificare il trattamento contabile delle plusvalenze per quanto riguarda il fair play finanziario. Ma attenzione, già intanto facciamo subito un chiarimento, solo per quanto riguarda il fair play finanziario. Che cosa c'entra il fair play finanziario con il processo plusvalenze della Juve davanti alla FGC? Nulla. Assolutamente nulla. Perché quelle norme federali si applicano a tutti i club, a tutti, anche a quelli di serie B, che non hanno nessun rapporto con la UEFA, mentre le norme del fair play finanziario si applicano solo alle società che hanno rapporti con la UEFA, cioè a quelle che giocano le competizioni UEFA. Se tu non giochi le competizioni... La Salernitana, per esempio, o il Monza, non hanno gli obblighi del fair play finanziario. Ce li hanno. Ce li hanno come, diciamo, stimolo ad operare bene, perché se hanno l'ambizione di arrivare in Europa, nel momento in cui ci vanno, devono rispettare quelle regole e quindi è meglio che si adeguino prima. Ma è un altro discorso, però non hanno i paletti da rispettare. Quindi già qui cambia un po' un discorso. Cioè stiamo parlando di modifiche che si applicano solo ai fini del fair play finanziario, non per tutto il resto. State a vedere che questa è una normativa UEFA che non intacca quella della FGC, che resta uguale. Non è che la UEFA ne poteva farlo, ha cambiato il codice di giustizia sportiva, quello resta uguale. Quindi ci sono delle nuove regole e delle valutazioni diverse finalizzate al fair play finanziario, solo relativamente a quello. E quindi c'è un virgolettato proprio della UEFA che leggiamo. Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato alcuni importanti emendamenti al regolamento licenze per club UEFA e sostenibilità finanziaria che entreranno in vigore il 1 luglio 2023, ormai domani. La nuova normativa definisce il trattamento contabile da seguire in merito all'ammortamento del tesseramento del calciatore e in caso di operazioni di scambio di calciatori. Quindi sia nel caso di acquisto, per quanto riguarda l'ammortamento, che nel caso di scambio. E ancora prosegue la nota della UEFA. Per quanto riguarda le operazioni di scambio di calciatori, il regolamento precisa che spetta alle società valutare se un'operazione di trasferimento sia qualificabile come permuta. Nel qual caso dovrà essere contabilizzata in linea con i principi contabili internazionali. Questo approccio mira a dissuadere che le operazioni di trasferimento avvengano con il solo intento di gonfiare artificialmente i profitti del trasferimento, piuttosto che per scopi sportivi. Ora è richiesto che i revisori dei club confermino la corretta applicazione dei requisiti contabili descritti e segnalino eventuali discrepanze in caso contrario. Prima di procedere con i dettagli, se ciò fermiamo un attimo su questo. Prima obiezione che faccio ai perbenisti, benaltristi, i giuventini della Juventus accerchiata e perseguitata, diciamo i giuventini veri, come li volete definire voi, che hanno puntato all'impunità. Ma la UEFA non era brutta e cattiva? Quindi se la UEFA è brutta e cattiva, e anzi forse c'è la UEFA dietro la condanna della Juve da parte della FIGC, perché adesso una novità da parte della UEFA la accogliete con entusiasmo? Perché vi va bene questa nuova normativa UEFA? L'ha fatta la UEFA? Se la UEFA è brutta e cattiva fa solo errori. Quindi prima ipocrisia. La seconda ipocrisia è che, come vedete, qui si parla di scelta da parte del club, se si tratti di una permuta o meno, per evitare quello che è stato contestato alla Juve, e cioè di gonfiare artificialmente i profitti del trasferimento, o meglio, di evitare l'intento di gonfiare artificialmente i profitti del trasferimento, piuttosto che per scopi sportivi. Una cosa che non è mai stata contestata neanche dagli giuventini puri perbenisti. Non hanno mai detto, guardate che la Juve ha fatto questa operazione in maniera assolutamente genuina, no, hanno detto che i giudici non erano idonei a giudicare, che la norma non era fatta bene, che non c'è la norma, e che comunque, anche in quel caso lì, a prescindere da tutto, la contabilizzazione era stata fatta correttamente. Nessuno ha messo in dubbio la contestazione che la Juve non abbia fatto operazioni per scopo sportivo. Ora che la UEFA dice dovete fare le operazioni per scopo sportivo, loro dicono, hai visto, lo dice anche la UEFA. Eh, ma cosa dice anche la UEFA? Che la Juve evidentemente non ha operato correttamente. Ma appunto, andiamo avanti, perché è cruciale il discorso della permuta. Si chiede Calcio e Finanza, retoricamente, in che cosa consiste? Il riferimento è ai principi contabili internazionali IAS, IFRS, emanati dall'International Accounting Standards Board, e quindi di che cosa si tratta? Soprattutto dello IAS 38, paragrafi da 45 a 47, che regolano le permute, e Calcio e Finanza riporta proprio questi paragrafi. Spero che non sia noioso il passaggio, ma è cruciale. Dice il paragrafo 45, una o più attività immateriali, e siccome stiamo parlando di prestazioni di calciatori, sono attività immateriali, possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie, quindi senza pagamento di prezzo, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie, cioè altro calciatore più soldi. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Quindi sia, diciamo, alle permute pure, che alle permute, possiamo dire, spurie, miste. Il costo di tali attività immateriale è valutato al fair value, valore equo, a meno che, quindi, nel senso che si può valutare in maniera autonoma, cioè si può stabilire nella libera negoziazione, quanto vale l'attività immateriale che si scambia. A meno che, A, l'operazione di scambio manchi di una sostanza commerciale, e quindi non te lo puoi inventare in quel caso, o B, né il fair value dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile in maniera attendibile. Quindi vedi che, sostanzialmente, non puoi applicare mai il fair value nel calcio, perché dov'è la valutazione attendibile? La misurazione attendibile sta proprio nell'iter che porta ad una valutazione sportiva che è stato contestato come carente alla Juve, cioè si è detto, tu non hai posto in essere un iter che ti ha portato ad una valutazione sportiva, quella è una misurazione attendibile, perché se tu mi dici che un calciatore vale 10 milioni perché ha fatto queste presenze, ha vinto questi trofei, o anche perché, ma mettici pure le statistiche per i nerd, mettici gli XG, mettici, che ne so, la precisione dei passaggi, quella comunque è una misurazione attendibile, mi dici per questo motivo qui, oppure mi vieni a dire perché io ho fatto un mix delle valutazioni dei portali specializzati, e quindi CS, Transfermarkt, o quello che volete, e quindi quella è la valutazione, già è qualcosa, e lì vai in qualche modo ad integrare questo requisito della misurazione attendibile, altrimenti è tutto aleatorio, quindi praticamente la Juve doveva farli tutti a permuta, cioè lo dice, basta interpretare questo, ma comunque dice, l'attività acquistata è valutata in questo modo, anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta, questa è un'altra questione, se l'attività acquistata non è valutata al fair value, il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta, quindi se l'attività acquistata, se non puoi fare fair value su quello che acquisti, il costo di quello che acquisti è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta, cioè qual è il costo storico del calciatore che vado a vendere, quello sarà il prezzo del calciatore che vado ad acquistare, se si tratta di permuta pura, cioè di uno scambio di attività immateriali senza scambio monetario. Ho capito male perché sono pazzo, oppure è chiaro? Prosegue poi, c'è il paragrafo 46, l'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione, cioè sostanzialmente c'è una movimentazione monetaria. Un'operazione di scambio a sostanza commerciale, però lo specifica, se tre casi ha la configurazione, ossia rischio, tempistica e importi, dei flussi finanziari dell'attività ricevuta, quindi i soldi che incassi, differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita, anche per le semplici tempistiche, cioè io do a te 10 milioni in tre anni, tu dai a me 10 milioni in cinque anni, in quel caso chiaramente c'è un'operazione di scambio con sostanza commerciale, mi pare di capire, per esemplificare. Oppure B, il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività, dell'entità interessata dall'operazione si modifica a seguito dello scambio, cioè il valore proprio dell'entità, insomma qui insomma mi viene più difficile semplificare, ma comunque è abbastanza chiaro, C, la differenza di cui in A o B è significativa rispetto al fair value delle attività scambiate, cioè c'è una sostanza monetaria importante rispetto al valore. Potrei dire, forse questo è il caso di Artur Pjanic, che non è entrato nel discorso plus valenze fittizie, perché Artur fu acquistato per 76, mi pare, e Pjanic fu venduto per 60, e quindi stiamo parlando di una differenza evidentemente significativa tra 76 e 60. Ancora, sempre paragrafo 46, al fine di determinare se è un'operazione di scambio a sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali, al netto degli effetti fiscali. Quindi anche il discorso non c'è fatturazione fittizia a fini fiscali, cioè l'archiviazione in ambito penale, processo prisma, ecco non hanno fatto nessuna irregolarità, no, perché tu devi guardare anche queste valutazioni già al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati. Poi paragrafo 47, il paragrafo 21b specifica che è una condizione per rilevare un'attività immateriale e che il costo dell'attività possa essere valutato attendibilmente. Il fervello di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se A. Non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fervello determinati per tale attività. Quindi non c'è una variabilità significativa, significa che è un valore che ha una variabilità ma ridotta, cioè se non è 10 è 8 oppure 12. Stiamo parlando del margine di errore sostanzialmente. Ovvero se B, le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma, possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fervello. Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il fervello dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fervello dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fervello dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente. Insomma qui dà dei dettagli che possiamo anche sorvolare, e io ve li leggo semplicemente per una questione di informazione, di approfondimento e di chiarezza. Ma tra l'altro qui stiamo parlando di valutazioni spropositate fatte dalla Juve, quindi voglio dire non solo ingiustificate dal punto di vista dell'Iter per pervenire a queste valutazioni, ma ingiustificate anche rispetto alla variabilità. Conclude poi l'articolo di Calcio e Finanza e dice poi in termini pratici, e fa l'esempio benissimo tra l'altro a non citare la Juve, non cita la Juventus. Pensate anche l'onestà tra virgolette, perché un articolo del genere, se lo vai a indicizzare con Juventus, ti scatta un pochino su, no? Cioè, siccome a livello di SEO non c'è Juventus in questo articolo, quindi a livello di indici, io non ne capisco tantissimo, però so che dipende dalle parole che scrivi poi fondamentalmente, e quindi, insomma, si sono anche un po' autolimitati per fare un'attività di maggiore chiarezza, perché se avessero citato la Juve sarebbero stati strumentalizzabili con questo articolo Calcio e Finanza. Invece portano un altro esempio, e quindi per esempio parlano di club quotati in borsa come Sporting e Porto, e il Porto, per esempio, dice, il Porto spiega, nelle operazioni di acquisizione e cessione di diritti pluriennali dei calciatori, quindi, insomma, gli acquisti di calciomercato, con la stessa controparte per le quali non esistono evidenze quantitative corroboranti, supportate da tecniche di valutazione che dimostrino che il fail value può essere determinato in modo attendibile, come dice, appunto, come dicono i principi IAS, i diritti pluriennali dei calciatori acquisiti devono essere valutati al valore contabile dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ceduti, come previsto, quindi, come dicevo, quanto era il costo storico di Pjanic? Quello doveva essere il prezzo di Artur, dall'altra parte, perché è uno scambio, poi ci hanno messo la differenza monetaria, ce la puoi anche mettere, ma la differenza monetaria si applica su un valore base che deve essere corrispondente, e così si doveva fare, così si doveva fare, e di questo stiamo parlando con la modifica, e infatti adesso si parla ancora, dice Calcio e Finanza, leggo questo capoverso perché è importante, perché veramente lo leggo per intero perché è chiarificatore, e ci va a fare il passaggio dai principi IAS alla pratica UEFA. In sostanza, quindi, in caso di scambio alla pari, la UEFA chiede nei calcoli ai fini dei conti per il fair play finanziario di utilizzare questi principi contabili. In un caso pratico, cioè anche valutando il calciatore, il giocatore X e il giocatore Y, in uno scambio 10 milioni di euro ciascuno, senza quindi parte monetaria, non ci sarà plusvalenza, perché poi di questo dobbiamo parlare, dell'effetto plusvalenza sul bilancio, visto che la cessione sarà riportata al valore netto residuo a bilancio, costo storico, costo d'ammortamento, ovvero sì è il costo storico tolti gli ammortamenti precedenti, ammortamenti già maturati, e quindi leggevo che mi pare che Vlaovic è sui, oltre 50 milioni ancora di costo storico, questo significa che se oggi la Juve volesse vendere Vlaovic per prendere, che ne so, Holland, fare lo scambio Vlaovic-Holland, e valutasse Holland 120, in cambio di una valutazione del Manchester City, di 100 per Vlaovic, ipoteticamente, la Juve non fa quasi 50 milioni di plusvalenza, nello scambio, perché c'è un 20 di differenza che lo metti come base monetaria, ma Holland tu lo compri a 56, 55, quello che è il costo storico residuo, tolti gli ammortamenti, di Vlaovic, questa è la regola, non come ha fatto la Juventus, secondo quello che sta dicendo la UEF, quindi non cambia assolutamente nulla, e ancora, prosegue calcio e finanza, il tutto, a meno che non ci sia una metodologia valutativa attendibile, che dimostri il fair value dei giocatori, e sullo sfondo resta l'ipotesi emersa, nelle scorse settimane, di una valutazione da parte della UEFA, ne avevamo parlato, la UEFA che vorrebbe dare una valutazione oggettiva, quindi attendibile, dei calciatori, una cosa un po' aleatoria, un po' difficile, però se ci provano, ci riescono, è buono per loro, in un caso simile, ad esempio, lo Sporting Lisbonne e il Porto, non hanno iscritto a bilancio Plus Valencia, per le cessioni incrociate, di Rodrigo Fernandes e Marco Cruz, pur avendoli valutati, entrambi 11 milioni di euro, in un'operazione a specchio, conclusa nell'agosto 2021, e poi insomma, è diverso invece il caso, di uno scambio, con passaggio di denaro, perché se il giocatore X vale 10, e milioni, e Y 20, c'è uno scambio di denaro pari a 10, e quindi però, che cosa succede qui? che la Plus Valencia, è solo sui 10 milioni, di sostanza monetaria, che passano da un club all'altro, la Plus Valencia è solo su quello, e quindi, nel caso Vlaovic-Holand, la Juventus farebbe, che ipotizzavo prima, la Juventus farebbe, zero Plus Valencia su Vlaovic, mentre adesso, non so quant'è la quota d'ammortamento residuo, quindi il costo storico di Holland, il Manchester City però farebbe, farebbe qualcosa, forse già di Plus Valencia, sul costo storico, ma poi 20 milioni, di parte monetaria, che riceve dalla Juve, nel caso di Artur Pjanic, per stare ad un esempio effettivo, mi pare che il costo storico di Pjanic, fosse 20, quindi la Juventus, doveva fare zero Plus Valencia, su Pjanic, venduto a 60, pare che fece 40 milioni, perché 20 doveva essere ancora il costo storico, quindi, mi pare, insomma, comunque, avrebbe dovuto fare zero Plus Valencia, invece di 40, però il Barcellona avrebbe fatto Plus Valencia, sui 16 milioni, 15-16 milioni, di differenza di sostanza monetaria, questo dice la UEFA oggi per il fair play finanziario, per le Plus Valencia ai fini del fair play finanziario, quindi ribadisco l'ipocrisia di chi sbandiera questa novità della UEFA, come a dire, ecco, la Juventus ha sempre operato correttamente, e lo dice adesso anche la UEFA, e se questa normativa fosse entrata in vigore prima, la Juventus sarebbe stata dichiarata innocente, no, ma no, ma assolutamente no, allora, io sono pazzo ormai, ripeto, perché non riesco più a trovarmi, a collogarmi in questa realtà, dove io vedo cose che invece altri raccontano in maniera opposta, però, cioè, va bene, voglio dire, va bene tutto, però anche no, mi sembra che sia chiarissimo questo discorso, la Juventus avrebbe dovuto registrare tutto come permuta, e quindi hanno ragione, anche ai sensi della UEFA, i giudici della FGC, per quella che è stata la penalizzazione, per quella che è stata la sanzione, la condanna della Juve nell'ambito delle plusvalenze, o mi sbaglio? Poi, magari adesso diranno che siccome la UEFA è brutta e cattiva, ha avuto torto anche su questo, oppure diranno, ecco, vedi, la UEFA conferma quello che dice la FGC, quindi si spalleggiano, e quindi, alla fine, la Juve è stata condannata per motivi politici, e tutto quello che poi sostanzialmente hanno già detto, e hanno sempre detto, e continuano pure a dirlo, però di fatto ne stiamo parlando di tutt'altra situazione, evidentemente. Mi fermo perché sono andato per le lunghe, ma spero di essere stato chiaro ed utile anche in questo contenuto, e quindi mettete like se il video vi è piaciuto, buon dibattito nei commenti, e cogliete l'opportunità, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, e attivare la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi contenuti. Abbonatevi anche a partire da 99 centesimi al mese, per avere tanti vantaggi, e seguitemi sul mio secondo canale, Apsim Out, per video brevi, decisamente più brevi di questo, sul calcio in generale. Ci vediamo molto presto, e fino alla fine, sempre Allegri Out! Grazie a tutti!